ok ciao ragazzi giusto l'altro giorno abbiamo visto la presenta vi ho presentato perlomeno redmi note 8 con le famose quattro fotocamere e oggi vediamo redmi 8 la versione che forse tra i due e redmi 8 pro ha meno senso di esistere però dipende perché le caratteristiche non sono male e il telefono ha un prezzo interessante quindi per chi vuol spendere poco può essere una valida alternativa detto questo passiamo al video passiamo all'apertura della scatola è come dicevo prima come dicevo pocchi anzi forse da un certo punto di vista potrebbe essere il redmi diciamo versione 8 perché appunto c'è redmi 8 redmi note 8 redmi note 8 pro col meno senso di esistere ma secondo me non è vero proporzione qualità prezzo è veramente interessante questa è la versione da 64 giga 4 giga di ram quindi non cambia molto da questo punto diciamo che il vero cambio è sulla batteria che ha una batteria veramente capiente da 5 mila milliampere quindi parecchio e però lato diciamo negativo è lo snapdragon che è un 439 quindi rispetto al redmi note 8 pro qualcosina e meno come sempre c'è dentro la nostra cover omaggio che mette xiaomi o comunque redmi istruzioni all'uso clip per rimuovere la sim il telefono ovviamente e cavetto type c per la ricarica e presa europea che non si dà mai sempre per scontata che riprende dove si acquista quello che vi metto in firma è la versione europea se riguardate nei commenti il primo commento è mio ed è su amazon per un acquisto a un prezzo migliore che ho trovato come dicevo appunto questa è la versione da 64 giga di memoria espandibile fino a 256 quindi si può far diventare molto capiente la memoria di questo telefono schermo è un ips retroilluminato quindi un lcd la risoluzione dello schermo è 1520 x 720 anche qui è un po inferiore rispetto redmi not a vera la forza di questo telefono è sicuramente la batteria che non si scaricherà praticamente mai 5000 mAh batteria a litio qualcosa di veramente capiente potente nel senso che dura tanto tempo la pie android 9 ovviamente motorizzato miui il telefono permette di fare video in full hd a 1080p è interessante che anche la frontale permette di fare video in full hd appunto a 1080p dimenticavo comunque questo telefono ha anche il gps integrato quindi è un telefono comunque fondamentalmente completo e non gli manca niente a tutto quello che deve avere a per chi non vuole spendere tanto diciamo che nella sua fascia di prezzo secondo me da un certo punto di vista offre molto di più dei suoi competitor diretti quindi è un telefono che consiglio a chi vuole spendere sotto le 150 euro detto questo ci vediamo al prossimo video e se riesco farò anche una comparazione con su redmi note 8 ok ciao al prossimo video